Un Consiglio Comunale a Montesilvano praticamente ha senso unico, le opposizioni si sono alzate e sono andate via. Cos'è successo? Lo chiediamo proprio al Presidente del Consiglio Comunale, Walter Cozzi. È successo che le opposizioni dal loro punto di vista hanno contestato una convocazione che vedrebbe non rispettati dei termini, io peraltro non ho nemmeno capito bene la lamentela che non era sulla sostanza ma sono stati citati una serie di articoli, oggettivamente mi dispiace perché quando si abbandona l'aula non è mai una cosa bella, però qui c'è un'amministrazione che ha il diritto, dovere di amministrare. Lo hanno chiesto i cittadini, peraltro lo hanno chiesto con un risultato elettorale schiacciante, non possiamo ogni volta rincorrere cavilli e mi passi il termine anche capricci da parte di qualcuno che sicuramente non troverà da parte mia accoglimento. Per il resto Presidente si è parlato di variazione di bilancio, insomma avete lavorato in questo Consiglio Comunale nonostante tutto? Beh sì, è esattamente questo, a me sarebbe piaciuto che l'opposizione si confrontasse proprio su questi temi, sembra nulla ma oggi sono calati su questo territorio oltre 15 milioni di euro, ecco l'opposizione, mi permetto di dirle, questa volta non lo dico da Presidente del Consiglio ma lo dico da esponente politico di Fratelli d'Italia, beh l'opposizione si sarebbe dovuta confrontare, forse non hanno argomenti per confrontarsi perché questa maggioranza ha raggiunto dei risultati straordinari, c'è stato un finanziamento da parte della Regione Abruzzo di 10 milioni di euro circa per la difesa della costa della nostra città. Manuela Natale in rappresentanza delle opposizioni nel Consiglio Comunale a Montesilvano, perché avete abbandonato anzitempo l'Aula? Buongiorno, abbiamo abbandonato l'Aula in quanto abbiamo ritenuto che la convocazione del odierno Consiglio Comunale fosse inficiata da invalidità e comunque illegittimità, giacché la convocazione dello stesso Consiglio è giunta soltanto lunedì 9 settembre alle ore 15.15, quindi non consentendo a tutti i consiglieri di avere l'opportunità di verificare quali fossero i documenti idoneamente da consultare per tempo, perché il nostro regolamento comunale di Montesilvano prevede all'articolo 18 che per la convocazione straordinaria avrebbero dovuto esserci tre giorni prima della prima convocazione del Consiglio e addirittura per le materie ordinarie, per materie ordinarie intendiamo sempre da regolamento la trattazione di bilanci, oggetto dell'odierno ordine del giorno del Consiglio, avrebbero dovuto esserci almeno cinque giorni prima della prima convocazione consigliare.